Che ora sembra che si stia un po', ma adesso però io non voglio criticare sempre i giocatori, però Askinson è il terzo velo che fai, non ne sono venuti tre, hai rotto il cazzo, hai rotto, spacca le gambe a qualcuno ma basta questi veli, mamma mia basta, fortuna che non sono l'unico a pensarla perché poi...